Tentation Gallery, un'azienda leader nel settore sposa, oggi viene premiata con la presenza di Brooke. Sì, diciamo oggi o meglio domenica 29 nel pomeriggio, nella serata, avremo l'onore di avere qui la famosissima star Catherine Cattilange, meglio conosciuta al grande pubblico come Brooke di Beautiful. In questa occasione presenteremo con lo stilista Luigi Aletta le collezioni cerimonia di Impero Couture. Kelly Lange è la testimonia ormai da sei anni di questo famoso brand da cerimonia e quindi insieme con Luigi Aletta ci faranno godere di una fantastica serata all'insegna della moda, dello stile e della femminilità. Una serata ricca anche di musica e anche di sfilata con tantissime modelle per creare un momento glamour in palmi al Tentation Gallery.